Sul camper di Civico Zero ci sono i disegni realizzati da Mattia Lucci, giovane studente del liceo musicale, disegni che immortalano con uno stile tutto particolare le bande, bande di tutti i tipi. Ma Mattia, questa passione per la banda quando ti è nata? Allora, la passione della banda mi è nata all'età di 10-11 anni, quando ero piccolo, che a una festa nel mio paese, siccome era una festa di San Nicola al mio paese, ho sentito per la mia prima volta la banda di Casa Languida, dal maestro Rotossi D'Annunzio. Questi disegni li ho cominciati al primo anno del liceo musicale, che siccome ero appassionato mi è entrata nella mente, nella mia vita, questi disegni della banda. Quindi poi tu sei anche un musicista perché ci dicevi che suoni la tromba e il rullante, quindi oltre a disegnarli sei anche un musicista nella banda e poi hai immortalato vedendo un po' le bande di tutta Italia, perché c'è di tutto, insomma, da quelle pugliesi che sono famosissime, quelle della nostra zona, quindi le disegni un po' tutte. Sì, io disegno abbastanza anche, non quelle abruzzesi, ma anche quelle pugliesi, tipo Conversano, Lecce, Squinsano e anche quelle abruzzesi che sono ovviamente Casa Languida, a testa e in coronata di vasto. La tua banda preferita? La mia banda preferita è quella di Casa Languida, però quando ero bambino la mia banda preferita era quella dell'incorronata di vasto, dal maestro Vincenzo Landi. È bello adesso vedere i tuoi disegni, poi vicino alle foto fatte da Civico Zero, insomma, la banda grande protagonista, è una bella emozione. Sì, è proprio una bella emozione, soprattutto per i ragazzi che vogliono imparare qualcosa della musica, io sono sempre disponibile anche nei momenti difficili. E poi c'è la professoressa Colonna, che è una tua grande fan, una fan dei tuoi disegni e che ti ha aiutato ad allestire questa mostra. Sì, io vorrei anche ringraziare la mia professoressa che mi ha aiutato moltissimo a organizzare questa mostra e senza dire non ce l'avrei fatta. Emanuele Perlina, qui nel camper di Civico Zero ci sono i tuoi scatti che poi si fondono con i disegni di questo artista inconsapevole, che abbiamo chiamato Mattia. Tu hai ritratto i musicisti della banda, ognuno con il suo strumento. Intanto com'è che è venuta questa ispirazione di fare questa serie fotografica? L'ispirazione è nata in seguito ad un corso di fotografia fatto con gli amici di Civico Zero, che saluto Davide Perluigi, e con Alessandro Pace, bravissima persona e bravissimo fotografo. L'idea è nata di raccontare qualcosa del territorio. Io, facendo parte della banda di San Salvo da 20 anni ormai, ho deciso di raccontare la banda del nostro paese. Non l'ho voluto raccontare come siamo abituati a vederla dall'esterno, tutti in riga, ben ordinati, con le divise, visto come un gruppo unico. Ho voluto raccontare i singoli elementi, la banda vista nel suo interno, ho messo in relazione ogni persona con il proprio strumento. E da queste foto si può vedere la diversità dei singoli elementi. Possiamo cercare di giocare a capire chi è lo studente, chi è l'ingegnere, chi è il maestro. Così, giocare un po' con queste domande. Questa diversità, secondo me, rappresenta il punto di forza di una banda. Può essere una banda, come può essere qualsiasi altra associazione o gruppo di persone. Questa diversità è il punto di forza, perché è capace di adattarsi allo scorrere del tempo. I nuovi portano nuove idee, i vecchi hanno le loro idee e questo fa sì che si formi un bel gruppo, in questo caso una grande famiglia.